grazie a Dio ce l'hai a minima con quello che hai lavorato non ti preoccupa o questo è un bravo pischello quando ti serve qualche cosa una mano eccetera chiamalo perché ma che sta con te ma abita con te questo ma in un momento no lui sta non lo so quando sarete là voi sarete strano no regà così non fa però non potremmo andare avanti così allora ma noi c'è un bisogno di un po di liquido me sa che sta scuaiata la gira